Il Digital Dental Day, l'evento itinerante gratuito e interamente dedicato al digitale, è giunto al terzo incontro. La manifestazione si è tenuta a Cagliari, venerdì 6 aprile, nella splendida location dell'hotel Regina Margherita, ed è stata un'ottima occasione per tutti gli operatori del dentale, sia dentisti che odontotecnici, di conoscere e approfondire le proprie competenze in ambito digitale. Durante i Digital Dental Days, organizzati da Infodent, i partecipanti hanno la possibilità di vedere in esposizione le attrezzature e i materiali tecnologicamente più innovativi nel panorama digitale del dentale e di entrare nell'odonto iatria digitale attraverso un percorso formativo semplice ed efficace, svolto da esperti del settore per trasformare l'innovazione in pratica quotidiana. Numerose le aziende presenti all'evento che hanno sfruttato al meglio la possibilità di presentare gli ultimi prodotti digitali. Amon Gearback, Johnson & Johnson, Kulser, Curarai Noritake, La Struttura, Open Technologies, Procter & Gamble e Ricordati, oltre alle associazioni di settore, Aio e Andi, hanno esposto i vari macchinari e le diverse attrezzature, mentre alcuni tra i maggiori esperti e opinion leader del settore hanno tenuto delle relazioni in un'apposita sala workshop messa a disposizione dagli organizzatori. Infodente vi dà appuntamento alla prossima tappa del Digital Dental Day, il 20 aprile a Torino, presso il Jet Hotel di Caselle Torinese.